un buongiorno ragazzi eccoci giunti ad un nuovo video questa volta essendo in periodo di lockdown andremo a farvi vedere un nuovo lago grazie al mitico aurelio terminator aurelio si dirigerà in veneto e andrà alla scoperta del lago di bassano quindi andremo a vedere questo nuovo lago e a scoprire un po di questo posto sperando anche noi di riuscire andare a visitarlo un giorno dopo diciamo questo lockdown e quindi vi lascio le immagini del video ciao a tutti buongiorno a tutti oggi siamo qui al laghetto acqua viva di mussolente e per una nuova sessione di pesca proveremo a fare diverse catture per divertirci tutti assieme e a tra poco vedremo cosa succederà ciao a tutti siamo qua con diego il gestore del lago di questo splendido laghetto e ci spiegaci un po come funziona qua la pesca diego ecco buongiorno a tutti il suo zendiego qual è il titolare del laghetto e la pesca qui funziona in questo sistema si pesca mattino pomeriggio quattro ore permesso per pescare di una canna e 18 euro si possono catturare 20 trote e le trote sono di taglia dai traetti ai quattro cinque chili sono un po miste le nostre famose big le big si ecco quelle che altri pesci hai nell'auro e poi ci sono storioni storioni d'italia anche da 10 15 chili ci sono carpe sempre dai 5 ai 10 15 e che giorni aperto tutta la settimana tutta la settimana tranne giovedì che uno di riposo ecco dopo c'è il parco come avete visto dove si può passare la mezza giornata rispettando anche a questo momento i distanziamenti perché spazio ce n'è anche abbastanza insomma ecco che dire allora ragazzi non rimane altro che venire qua a divertirsi perché io ogni volta che vengo qua mi diverto da matti ciao a tutti e alla prossima alla prossima ciao e grazie a tutti è un altro acquadino ecco qua il bordeaux ecco qua il bordeaux del lago eros ciao a tutti oggi vedi di lasciarne anche per gli altri è un'altra trotta acquadino e anche eros in grado la trattatura direi che a basano qua le trattature non mancano mai è un'altra trattatura 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 sia un'altra trattatura mi include la trattatura e un'altra trattatura è un'altra trattatura è un'altra trattatura Keep me high up off the ground In a head, in a crowd We ain't ever coming down, 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 down We ain't ever coming down Down, 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 down Here we go, Diego, the seminar What a nice job Bene, guarda. Avanti Diego. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti